E allora, con un bicchiere di Merlot, mandò giù tutte le pillole in una volta. Però, l'avevano fregato. Invece di soffocare pian pianino, Charles Freck cominciò ad avere delle allucinazioni. Tutto a un tratto, vide accanto al suo letto una creatura arrivata da un'altra dimensione, che lo guardava con aria di disapprovazione. Mi leggerai i miei peccati. Ci vorranno centomila ore. I tuoi peccati ti verranno letti senza sosta, in turni, per tutta l'eternità. La lista non terminerà mai. I peccati di Freck. Charles Freck desiderò rievere indietro l'ultima mezz'ora della sua vita. Sei anni, prima elementare. Urto di forbicina per le unghie. E08 del pomeriggio. Urto. Pugne per rosse e intenzionali. Si risolvano i profondi della posizione. Dicotin. Dei regali. Un milione di bugie. Distruzione del forno. Mille anni dopo raggiunsero la prima media, anno in cui aveva scoperto la masturbazione. 14 novembre. Perco d'anno. Dicotin. Cocaina. Charles Freck pensò, perlomeno, del buon vino. Pugne per le unghie. 6 anni, prima elementare, furto di forbicina per le unri. 5 anni, prima elementare, furto di 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 forbicina per le unri. 5 anni, prima elementare, furto di 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 unri. 104 anni, prima elementare, furto di unri. 10 binalla, furto di unri. Ferro di unri. 16 anni, le? lovingbo! Dueri. 15 anni, sicuramente, era deciso la mia Barbara ama… Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.